Il paniere di Merlini Nel cuore dell'oltrepop avese la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Chezzi, candidato sconfitto, ma in realtà la città si è spaccata letteralmente a metà. Come interpreta questo dato? Ma è vero, nel senso che vince chi prende più voti e quindi noi non abbiamo vinto dal punto di vista numerico. Sicuramente è una vittoria politica di grandissimo valore per il centro-sinistra. Pensare quasi di aumentare del 50% i suffragi del primo turno è un dato impensabile, era un dato impensabile prima dello scrutino del ballottaggio. Sicuramente la città si è spaccata in due, e si è spaccata in due anche territorialmente. Ci sono quartieri dove abbiamo vinto, a Pombio la Roccaforte di Barbieri questa volta ci ha dato i consensi. Il centro ha votato metà a metà, adesso non ho ancora l'analisi accurata, ma è così. San Vittorio invece depone a favore di Barbieri. Direi che il centro-sinistra sfiora la vittoria, sfiora la vittoria, la tocca ma non riesce a conquistarla. Consolida però un risultato in termini di voto che mai negli ultimi 30 anni è riuscito a raggiungere. Oggi la città è spaccata in due, è spaccata tra chi vuole cambiare e è spaccata tra chi ha deciso di dare la continuità. Al di là della campagna elettorale durissima, condotta con molti colpi sotto la cintura, come si dice in termini voxistico, dal tentativo di denigrazione all'utilizzo molto libero di alcuni strumenti della campagna elettorale. Devo dire che Voghera oggi è diversa rispetto a come era nel novembre del 2014 quando abbiamo iniziato questo percorso. Devo ringraziare chi è stato con noi, quindi ringrazio Di Piero e D'Aquilini, ringrazio gli esponenti del Cattolicismo Progressista che sono stati Ingegner Bariani e Moreno Baggini perché insieme abbiamo costruito un modello che da una parte può essere vincente e dall'altra parte credo proprio che possa dare una speranza di riscatto a questa città. Il numero di schede nulla è significativo, che idea si è fatta in merito? No, non riesco a dare un significato politico alle schede nulle, sicuramente una propensione esplicita del Movimento 5 Stelle con cui abbiamo condiviso battaglie di principio e battaglie di valore in Consiglio Comunale avrebbe potuto cambiare questo risultato ma così non è successo e quindi ne prendiamo atto. Il centro-destra è riuscito a ricompattarsi a livello di vertice però il suo elettorato non si è ricompattato. Il suo elettorato, una parte consistente del suo elettorato, ha espresso nel voto una condizione, una volontà di cambiamento e di svolta che Berbieri sicuramente non è in grado di dare. Quindi dobbiamo prendere e partire da questo dato, da questo valore che non è un valore simbolico. Perdere per 200 voti vuol dire essere molto, molto, come dire, pareggiare nella città. E quindi dobbiamo partire di qua per prepararci per i prossimi due anni e mezzo o tre, quindi nel 2020. Sarà un'opposizione molto tosta, Berbieri deve saperlo, l'abbiamo fatta in Consiglio Comunale per un anno. E sarà un'opposizione che porterà la gente dai quartieri a verificare quello che fa Palazzo Cunela, questo è indubbio. Noi abbiamo scritto il nostro programma e manteremo fede ai nostri elettori, ai nostri impegni. Quindi smentisce ciò che sta già dicendo il centrodestra che la vede già di ritorno verso Milano. Con la Porsche magari, no. Esatto. No, non... Smentiamo. Smentiamo assolutamente, io resto voghera, resto lavorare voghera. Credo che politicamente sarebbe un errore gigantesco non utilizzare l'eredità che stanotte ci ha lasciato la città, assolutamente. No, no, no. È un patrimonio ricchissimo, è un patrimonio impensato per me. Io avevo, come dire, previsto un ballottaggio con una fluenza minore. Di fatto questo è come se fosse un primo turno di un'elezione, quindi è un'elezione vera e propria. E la città ci ha dato, il 49,5% della città ci ha dato ragione, non è stato sufficiente. Grazie, buon lavoro. Grazie, ci vediamo.